Ciao ragazzi e bentornati nel mio canale Fantasticamente Inge, dove oggi vedremo il procedimento passo passo per dividere una circonferenza in sei parti uguali, ovvero per costruire un esagono regolare in essa in scritto. Per cominciare si traccia la circonferenza di raggio assegnato e centro O. Si traccia il diametro verticale AB. Con apertura di compasso uguale al raggio si centra in A e si descrive un arco che interseca la circonferenza nei punti C e D. Con la stessa apertura si centra in B e si descrive un altro arco che interseca la circonferenza nei punti E ed F. Unendo i punti A, B, C, D, E, F si ottiene l'esagono in scritto. Come avete visto questa è una delle costruzioni più semplici fatte finora. In ogni caso se avete dubbi, suggerimenti o richieste in merito lasciate un commento ed io vi risponderò nel più breve tempo possibile. Intanto vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima lezione.